Ida Dominiani ragazzi ci abbiamo poco tempo ancora ma io penso che ce lo utilizziamo tutto se avete pazienza è difficile con gli occhiali e la mascherina allora sono state dette tantissime cose e io non le voglio ripetere voglio solo dire questo per cominciare che Rossana ha avuto una vita molto bella nel grande e nel piccolo novecento e anche dopo nell'inizio di questo secolo che pare il rovescio di quello vecchio e che però non le aveva fatto perdere la curiosità per l'accadere anche quando quello che accadeva non le piaceva affatto una vita piena di senso, piena di impegno ma piena anche di relazioni e di incanto il contrario voglio dire del disincanto per tante cose, le tantissime cose che colpivano la sua sensibilità non solo politica ma anche letteraria, artistica, cinematografica direi anzi più che la sua sensibilità, la sua sensorialità perché Rossana era anche un corpo più di quanto lei stessa volesse questa bellezza, questo splendore della sua vita non deve essere offuscato in nessun modo dalla malinconia della fine della sua fine, nemmeno dalla malinconia dei tempi e nemmeno dalla malinconia ormai francamente insopportabile della crisi e della sconfitta di una sinistra che non trova vie di uscita va invece mantenuto questo splendore della biografia di Rossana insieme al passo con cui ha attraversato il suo tempo lasciandosene a sua volta attraversare insieme alla generosità con cui si è data a ciò in cui credeva e a tutte e tutti noi ma anche ai tantissime e le tantissime di cui ha segnato l'esistenza come ha scritto una mia amica in questi giorni senza che neanche se ne accorgesse e senza neanche supporlo e questo si vede bene adesso dal mosaico di ricordi che stanno uscendo in questi giorni che è uno specchio anche del mosaico della sua persona delle proiezioni che suscitava della sua personalità un mosaico irriducibile a una cosa sola o a una sola dimensione fosse anche la dimensione della militanza poco fa lo diceva Maria Luisa Boccia ciascuno ha la sua Rossana ma Rossana non è di nessuno è inappropriabile come del resto è inappropriabile ciascuno di noi forse lei ancora di più perché lei sfuggiva naturalmente spontaneamente alle appropriazioni indebite alle identificazioni finte alle identità certificate che ingabbiassero in qualche modo la sua irriducibile singolarità irriducibile e anche dura con Rossana era anche molto duro confrontarsi si litigava molto e questo era anche un tratto questa sua irriducibilità era un tratto preciso della sua libertà e io voglio parlare di questo soprattutto della sua libertà perché Rossana è stata certo una militante comunista niente della sua vita sarebbe comprensibile al di fuori dell'orizzonte del comunismo come lo chiamava il qui già citato Cesare Luporini e come lo chiama anche una giovane studiosa americana che non sapeva niente di Cesare Luporini ma ha ritirato fuori questa espressione ma è altrettanto vero che niente della vita di Rossana si capisce al di fuori della sua passione per la libertà niente comprensibile al di fuori del tentativo di coniugare questo binomio comunismo e libertà che la storia del novecento ma soprattutto l'ideologia neoliberale di fine novecento ha divaricato io penso che questo binomio abbia contrassegnato la biografia di Rossana quando lei non ha potuto praticarlo nella forma partito lo ha trasferito sulla forma giornale e lì ha trovato una forma di espressione più facile più fluida perché di questo sono certo certissima questo voleva dire la testatina quotidiano comunista secondo Rossana voleva dire il contrario dell'ideologia il contrario del conformismo il contrario del minoritarismo è un messaggio che io voglio scandire oggi perché penso che sia un messaggio prezioso per la sfera pubblica di questo paese nel suo insieme che non è tanto ben ridotta certo qui si è giustamente parlato della vita di Rossana a partire dai suoi momenti più eroici la resistenza, il pc, la radiazione dal pc la fondazione del gruppo prima e del giornale dopo del manifesto ma neanche questi momenti eroici badate ne esauriscono la figura io per esempio nel mio piccolo sono felice di averla incontrata dopo attraverso i suoi scritti a metà degli anni 70 e di persona alla fine degli anni 70 quando il suo mondo di riferimento era già in crisi anche se in una crisi dalla quale lei e tanti di noi si pensava che pensavamo avrebbe avuto un esito diverso da quello che poi ha avuto e questa crisi ha coinciso forse con la stagione di maggiore apertura di Rossana nell'impatto che lei ha avuto in quel periodo con ciò che era più lontano da lei dalla sua formazione il comunismo certamente ma anche il movimento del 77 anche il movimento di economia anche tutta la vicenda delle Brigate Rosse e della battaglia garantista che lei fece su questa e proprio da questa lontananza lei era stimolata era sfidata era modificata io credo che niente abbia modificato Rossana quanto l'incontro con la libertà delle altre come ci chiamava all'inizio del femminismo è una stagione che dura fino all'89 dopo ne comincia un'altra non di crisi ma di capovolgimenti del secolo precedente comincia una stagione in cui il comunismo viene archiviato e la libertà diventa uno slogan neoliberale che non c'entra niente né con Rossana né con noi l'epoca era cambiata più tardi sarebbe cambiato anche il giornale in un modo che lei non vi si riconoscesse più e non solo lei ma proprio perché l'epoca è cambiata il messaggio di Rossana si è fatto più centrale direi persino oggi cioè e cioè è un'enorme che ha avuto tra i miei principali da ragazza del secolo scorso lei me lo raccontava sempre con grande stupore che questo libro incontrava soprattutto l'ascolto dei giovani quei giovani cresciuti appunto dopo l'89 in tempi che per dirlo con Mark Fisher un filosofo che ci ha lasciato spontaneamente a 40 anni e che ci manca molto sono tempi di realismo capitalista di zero alternative al capitalismo quindi a noi spetta il compito di decidere che cosa ereditare di quel messaggio di Rossana l'eredità la decide sempre chi la riceve e non chi la dà naturalmente saremo eredi indegne e indegni ma con la promessa di far vivere l'immenso patrimonio di scrittura e di una scrittura che respira libertà che lei ci ha lasciato e che ci consentirà di tenercela sempre accanto e dentro come un'impronta che poi altro non è che l'impronta incancellabile del materno a cui bisogna solo dire grazie grazie